Ciao a tutti! Ho una novità da mostrarvi! Le LOL Surprise sono diventate grandi! Abbiamo Queen Bee e Neon in versione gigante e di stoffa. Questa è la nostra Super Queen Bee con questi riccioloni, i codini, questo faccino bellissimo e morbidissimo. E indossa il suo vestito nero e oro glitterato. Sotto c'è anche la mutandina. Le scarpette sono di plastica removibili. È davvero fantastica! Ed è seduta sulla sua poltroncina di cartone. Dopo mettiamo la scappa, ecco, quindi. E lei è Neon! Eccola! Col suo faccione pieno di selline. I capelli morbidissimi di velluto. Arancioni e fiocchetti, ciuffetto, fucca. Quindi, ovviamente, i suoi capelli sono in color oro. Indossa questo bellissimo vestitino. Allora, qua è di tessuto. Con il cappellino. E questo invece è un po' più plastificato, con i fiocchetti. E il tulle. Ed eccola qui. Come se indossasse calze a righe. Anche lei porta le scarpette removibili di plastica color giallo fosforescente. In effetti, lei ha anche la maglietta giallo fosforescente. Quindi ha questa magliettina, con il vestitino sopra. Anche lei è seduta su questa scatola di cartone che rappresenta un divano. Infatti, se li uniamo insieme, ecco, unendo insieme i due cartoni, rappresenta proprio un bel divanetto. Per le bellissime LOL. Quindi, è Neon QT. Dietro ci sono disegnate le due LOL che si abbracciano. Le due scatole sono uguali. Non avrei mai pensato che potessero inventare le LOL grandi e di stoffa. Mi sembrava letteralmente un sogno. E sono belle, grandi e morbide. Sono davvero fatte bene. Bellissime entrambe. Va bene, io spero che questo video super loloso vi sia piaciuto. Vi mando un bacione e alla prossima. Ciao, ciao! Ciao!